L'incontro da noi è richiesto proprio perché c'è l'esigenza impelente di dare delle certezze alle imprese turistiche della nostra città e quindi il piano dei Lini è una delle cose fondamentali. Purtroppo si era annenato negli anni scorsi, nell'incontro con il sindaco si è deciso di riaffrontare il problema, di rispolverare quello che esisteva e che però non ho mai visto alla luce per vedere se si può fare un adeguamento per accelerare i tempi sotto questo punto di vista, ci darà la risposta tra una settimana per dire se questo percorso sarà percorribile oppure no. L'impegno sembra che sia positivo sotto questo punto di vista, non possiamo dire nulla di più perché ovviamente deve consultarsi e vedere un attimino cosa pensa la Giunta e così via, però mi sembra che abbiamo ottenuto un risultato importante perché si riaffronta questo problema, se non si affronta mai avremo una soluzione di tranquillità per le nostre imprese e soprattutto di pensare a domani perché se non hanno il piano del Lino gli investimenti non possono farli, i problemi delle concessioni potranno poi non averli e così via. Perciò ci sono dei problemi veramente seri, non è che il piano del Lino sia una cosa così, uno sfizio, ce l'hai o non ce l'hai lo stesso, no, è fondamentale sotto questo punto di vista per il futuro della città.